e che andiamo avanti con questo gioco fichissimo allora ho comprato tutto ho comprato tutto zag zag cosa sta dicendo qualcuno lo capisce stolti se la lingua significa chi va la andate sclucicluc porco malvagio affamato non so perché io voglio ammazzare l'orco per primo ah questa lancia le palline questo lancia i sassetti è la fionda attacco fanno male ok orco è andato perfetto ok bella lì allora il doppio danno lo faccio questo qua bella oh doppio danno ancora oh che stronza paella lì doppio danno boom bravo wow 1 1 1 1 pochissimi soldi allora io ci scommetto che lì è più forte mi hanno derubato mercenario malvagio ha preso il libro arca possiamo prendere il loro se meno tracce ancora fresche ok ok porca e chissà qui chissà qui cosa succede se prendevamo l'altro allora Alla prossima 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 E 5 Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima 5 punti Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Andiamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Wow Alla prossima 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 Wow Il fuoco Alla prossima 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 Alla prossima